Ecco, in questo scenario abbiamo una forma di laicismo, o se preferite ateismo, che è esso stesso integralmente religioso. Perché nell'atto stesso con cui delegittima ogni forza residua delle religioni, siano esse quelle cristiane o islamiche, legittima integralmente la nuova religione del mercato. E' curioso che i corifei del laicismo si scaglino puntualmente contro tutte le forme di teologia e di divinità che non sia quella del mercato. Il monoteismo mercatistico, alla stregua di tutti gli altri, non può accettare altra religione all'infuori di se stesso. Ovvero all'infuori del furor della valorizzazione illimitata, dell'idea del mercato come unica fede riconosciuta su scala globale. Ecco che il mercato è insieme monoteistico e pluralistico. E' monoteistico quando si fa minaccioso, ce lo chiede il mercato, diventa pluralistico e più benevolo quando offre chance, le chance dei mercati. Si ridispone al plurale. In questo senso io credo che siamo tornati, nemmeno troppo nascostamente, allo spirito religioso del capitalismo dell'origine protestante, studiata da Weber nel suo testo, Pietra miliare degli studi sul capitalismo. L'etica protestante è lo spirito del capitalismo. Il capitalismo oggi è una fede nemmeno più visibile, naturale come l'aria che respiriamo, che non impone una dogmatica, però impone per così dire una fede vissuta quotidianamente, senza interruzione, non conosce domenica, vale H24 potremmo dire la fede mercatistica. Ciò che ci permette di valorizzare le lungimiranti considerazioni che nel 21 su questi temi, in maniera pionieristica era venuto svolgendo Walter Benjamin, sul capitalismo teologico, sulla fede mercatistica, su quella fede cioè che a dire di Benjamin presto o tardi sarebbe andata a ridefinire, a rioccupare integralmente le preoccupazioni e le inquietudini cui in passato davano risposta le religioni tradizionali, oggi effettivamente sempre più disertate e di più sempre più poste sotto attacco dal capitale stesso. Si sta realizzando oggi paradossalmente una dinamica di sdivinizzazione, uso l'espressione di Heidegger, cioè di entgötterung, di sdivinizzazione come perdita di senso del divino, e insieme di ridivinizzazione dell'immanenza mercatistica, innalzata sola divinità possibile. E questa è la cifra dell'odierna fede nel mercato, e questa è la cifra di quello che vorrei chiamare il nuovo sacro romano impero della finanza. Una vera e propria teologia globale che non ammette eresie e che subito le condanna, dove appunto questa nuova fede diventa una forma di fede che si cristallizza in quei dogmi del pensiero unico, che qui non voglio prendere in esame, ma che in ogni caso, qualora si incorra nella bestemmia, ossia nella messa in discussione di questi dogmi, ne seguono conseguenze piuttosto gravi, che certo non riguardano la cicuta bevuta da Socrate o il rogo subito da Giordano Bruno, ma vengono pagate comunque a caro prezzo con il silenziamento, la diffamazione e l'applicazione di tutte quelle categorie il cui solo fine è quello di delegittimare a priori la discussione critica, come appunto fascismo, stalinismo e così via. Per cui appunto abbiamo per un verso una nuova teologizzazione del mercato, il lessico oggi dell'economia, dicevo prima, è intriso di teologumeni, a cui facevo prima riferimento, dove peraltro si assiste sempre più evidentemente a una sorta, diciamo così, di nuova teologia della salvezza nell'immanenza capitalistica. Non ci attendiamo più la salvezza dall'oltremondo, ma nella stessa immanenza di questo mondo, mediante le pratiche dello scambio e del consumo, in cui l'oggetto merce promette la salvezza che un tempo era riservata all'oltremondo e in realtà attiva una funesta circolarità per cui l'oggetto merce consumato riappare di nuovo nella circolazione e sempre differisce la salvezza perseguita. Ecco perché oggi effettivamente abbiamo un tasso di fede teologica, non soltanto nel dogma dell'economista, la crescita illimitata nel quadro di un ecosistema finito. Credo qui absurdum pienamente dispiegato, ma anche appunto per il fatto che anche al netto delle crisi fallimentari del sistema economico fanatico, oggi dilagante, ciò che si è applicato ad altri sistemi avrebbe comportato la diserzione di massa da quei sistemi, non di meno al netto delle sconfitte, degli errori, delle crisi, continua a persistere anche negli ultimi, cioè in coloro che avrebbero tutto l'interesse a rovesciare l'ordine classista dominante, una fede cieca nel mercato, nelle sue chance, nel suo autoregolamento.